A te. A te sui mezzi di emergenza. A te in prima linea negli ospedali. A te che sei medico, infermiere. A te che sei nei laboratori, ricercatore, farmacista. A te che ti occupi del cibo, che lo coltivi, che lo trasporti. A te che ci trasporti. A te che ci difendi. A te che ti prendi cura degli altri senza chiedere nulla in cambio. A te che sei anziano. Bambino. Grande. A te che resti a casa. A te che sei malato. Che sei guarito. Soprattutto a te che stai ancora soffrendo. A te Italia. Insieme a te rinasceremo. Buona Pasqua.